Ho apprezzato il significativo e non simbolico passo in avanti compiuto dalla Commissione Giustizia del Senato il 26 marzo scorso quando si è finalmente giunti all'adozione di un testo unificato su unioni civili e convivenze di fatto, un testo che mira finalmente a risolvere definitivamente il problema dell'eguaglianza formale fra coppie omosessuali ed eterosessuali, così come vorrebbe del resto l'articolo 3 della Costituzione che non dobbiamo mai dimenticare che recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso eccetera.